Il treno regionale 16 183 provvediente da Sant'Pietro in V e Cretto a Treviso Centrale delle ore 15 e 07 e in Arrigo al binario 1. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla, terma a prese. Attenzione, la linea è temporaneamente fuori servizio da e ben Treviso Centrale, Vicenza. I treni subiranno ritardi o variazioni, causa la rimozione di residuati bellici nella stazione di Vicenza.